Casarini tutto sofferto ma tutto molto bello alla fine Sì, è andata bene, abbiamo sofferto, è stata una parita difficilissima loro sono una bellissima squadra, forti, giocano palla sono venuti qua comunque rischiando tutto, attaccando e niente, ci ha messo in difficoltà, per fortuna alla fine si è riuscito a trovare il gol e a provare a casa i tre punti Infatti il Bari inserisce un attaccante di più, il Lanciano ne leva uno, arriva il gol di Minotti a volte questo calcio riserva sorpresi Sì, diciamo che eravamo un po' in difficoltà, il mister voleva fare più giochi in mezzo ha messo su Minotti, poi stati bravi in un calcio piazzato a sbloccare la partita Chiaro schema? Ovvio È un Lanciano d'acciaio, 5 partite senza gol subiti Sì, siamo compatti, siamo uniti, ognuno cerca di aiutare i compagni cerco di dare il massimo per portare a casa il massimo del risultato che possiamo ottenere quindi lavoriamo tutti verso un unico obiettivo che adesso è sempre la salvezza cerchiamo di salvarci il prima possibile per poi vedere in un futuro cosa si può fare Ma per 48 ore il Lanciano è primo in classifica da solo? Godiamoci questo momento per 48 ore, poi chissà, che ormai saranno anche di più e ci goderemo anche la settimana prossima Intanto 48 ore, siamo primi e godiamoci questo momento L'Uccellino te l'aveva detto che era la scelta giusta a Lanciano? Sì, l'avevo detto all'inizio quando sono arrivato era la scelta giusta, sentivo che poteva essere una buonissima opportunità per rilanciarmi e niente, speriamo di continuare, speriamo di toglierci altre grandi soddisfazioni Era l'Uccellino di Del Piero